Ciao a tutti ragazzi e bentornati in questo nuovo video sul mio canale youtube come avete già detto il titolo oggi parleremo di Cosenza Pescara allora cosa mi aspetto io da Cosenza Pescara? sicuramente una vittoria da parte di Cosenza specialmente dopo la sconfitta di Pisa dobbiamo vincere perché abbiamo la Reggiana a meno 1 se la Reggiana vince e noi perdiamo andiamo in retrocessione diretta io ve l'ho già detto nel video precedente non spero più nella salvezza diretta ma spero almeno nei play out perché per salvarci quelli dobbiamo a forza fare la salvezza diretta è troppo lontana dobbiamo fare un sacco di punti e non ci riusciamo anche perché noi dopo la partita di domani speriamo di vincere perché se perdiamo si mette davvero dura ma ci sono poi le gare contro l'Empoli che è la prima in classifica quindi è veramente tosta specialmente poi torniamo in casa al Marulla contro il Monza che è un'altra squadra fortissima e poi abbiamo lo sconto diretto all'ultima giornata a Pordenone speriamo di vincere tutte le partite anche se è difficile domani sicuramente dobbiamo assolutamente vincere se vogliamo trovare la strada verso la salvezza allora per il momento è tutto noi domani ci vediamo con il post partita di Cosenza Pescale e poi tra domani sera e dopo domani il solito video sulle paggelle del Cosenza Calcio per il momento è tutto ci vediamo in un prossimo video bella ragazzi bella ragazzi